Diciamo che non era mica facile perché comunque è stata una partita molto equilibrata, avversario di spessore che comunque negli ultimi anni pur non conoscendo il girone B abbiamo visto che comunque ha sempre fatto molto bene, squadra bella tecnica, bella compatta di qualità, quindi insomma non era facile oggi e direi che abbiamo interpretato bene la partita dopo. Il rigore li prepariamo sia a favore che contro in settimana, quindi bene dai.